Sia lodato Gesù Cristo Oggi cominciamo già la quinta settimana della Quaresima e se vi ricordate la settimana scorsa il Vangelo, anche la guarigione del cieco, ci aveva insegnato a rispettare le fasi di notte, di oscurità che abbiamo nella nostra vita nella speranza di ricevere una luce più forte, una luce interiore, avere quindi fiducia in un Dio che ci guida anche nel buio e come il cieco appunto venire guariti per avere una nuova capacità di vedere la presenza del Signore anche nella nostra vita. Quello che vediamo oggi nel Vangelo è la storia di Lazzaro, di Marta e Maria, dei tre amici di Gesù a cui lui è legato molto, in cui Lazzaro è morto, almeno è malato inizialmente, e le due sorelle chiamano Gesù per essere aiutate e Gesù risponde in un modo particolare. Lui dice, ma Lazzaro non è malato, cioè non ha una malattia che porterà la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Ecco, si tratta allora di una malattia differente. È una risposta che chiaramente le due sorelle non capiscono, ma alla fine avrà ragione Gesù, perché dopo la sua risurrezione si vedrà appunto la gloria di Dio. Quindi la malattia non era di per sé una cosa negativa, ma in quel momento aveva uno scopo ben preciso. Questa parte del Vangelo viene interpretata spiritualmente da molti autori, anche da Giovanni della Croce, in questo modo, di non considerarla come una malattia biologica, ma di una malattia più appunto spirituale, dello spirito. Una malattia che viene dall'amore verso Gesù. Se ci pensiamo un attimo, forse fate anche voi questa esperienza, se nel mondo attuale in particolare voi vi avvicinate a Gesù, quindi intensificate la vostra vita di preghiera, non so, andate tutti i giorni a messa, o la maggior parte delle persone vi riterrà malato. E' una malattia, questo della fede, questo dell'amore verso Gesù. Per fare questo paragone, gli spirituali, anche San Giovanni della Croce, considerano l'amore di Gesù per noi, e anche il nostro verso Gesù, come una malattia, ma appunto non una malattia negativa, di un corpo malato, ma la malattia di un'anima a cui manca l'amato e che appunto soffre, soffre di questa malattia. Lui dice, Giovanni della Croce, che noi nella vita dovremmo fare diversi gradini di amore, salire una scala a pioli, insomma, dell'amore. Dice, diciamo dunque che i gradi della scala d'amore, mediante i quali l'anima successivamente sale a Dio, sono dieci. Il primo grado d'amore fa ammalare l'anima in modo benefico. La sposa si trova in questo grado d'amore quando dice, Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se incontrate l'amato, ditegli che sono malato d'amore. E' un'ocitazione del Cantico dei Cantici, dalla Bibbia. Tuttavia questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Infatti in essa l'anima perde vigore quanto al peccato e a tutte le cose che non sono Dio a causa di Dio stesso. Infatti come il malato perde l'appetito e il gusto di tutti i cibi e muta il colore che aveva prima, così anche in questo grado d'amore l'anima perde l'appetito e il gusto di tutte le cose e muta come amante il colore e l'aspetto della vita passata. Ecco, il paragone quindi di Lazzaro pieno d'amore verso Gesù che per la sua lontananza soffre, che viene però guarito dalla presenza di Gesù. E' quindi una malattia interiore, una sofferenza data dalla apparente mancanza della medicina, della guarigione, che è Gesù stesso. Confrontate all'amore di Gesù, tutte le realtà perdono la loro forza di attrazione. Giovanni della Croce ci incoraggia, anche se noi sentiamo in noi questa mancanza di Dio, che è una mancanza solo però esteriore, perché sappiamo che Lui è presente in noi, ebbene, di non rassegnarci. E' una situazione che ci fa pensare di essere malati, di essere in uno stato di mancanza, ma non è vero. Dovremmo cambiare il modo di pensare, il modo di sentire, per capire che Lui è vicino a noi e quindi la medicina che abbiamo a portata di mano è sempre, appunto a portata di mano, è sempre lì per noi. Apriamoci al futuro, dice Giovanni della Croce. Siamo pieni di speranza, come le due donne e Lazzaro, abbiamo anche noi la possibilità di sperimentare la risurrezione. Durante la Quaresima possiamo forse fare l'esperienza della malattia, quindi del desiderio di Gesù e lasciamoci guidare da questo desiderio. Quello che ci vuol dire Giovanni della Croce è di non lasciarci impressionare dalle difficoltà che possiamo trovare in questo cammino. Anzi, Lui dice più ci avviciniamo a Dio, a Gesù, al fuoco del suo spirito e più inizialmente almeno sentiremo le difficoltà, sentiremo in noi quello che non corrisponde a questo fuoco dello spirito. Quindi anche momenti, non so, di tristezza, momenti di rammarico su alcune nostre caratteristiche, su alcuni nostri peccati. Questo non ci deve scoraggiare, è una parte del processo di purificazione. Tra l'altro vi voglio indicare anche, vi metterò un link nella descrizione a questo video audio in cui potrete leggere tutti i testi di Giovanni della Croce che ho in parte citato adesso e la meditazione un po' più lunga su questo aspetto. Prendiamo quindi l'incoraggiamento di Giovanni della Croce sul serio, mettiamoci in cammino e non abbiamo paura anche delle notti e dei momenti di sconforto esteriore. Non lasciamoci attanagliare da questi ma rinnoviamo la nostra fede.